Abbiamo cambiato un po' il trend dei primi anni che abbiamo fatto. Presentata questa mattina l'edizione in Giro per Fan 2024, è tutto pronto? Sì, sì, è tutto pronto, anche perché ormai manca veramente poco al giorno clou per quanto riguarda l'evento. I biglietti ormai sono già in vendita, sono già in vendita, già tantissime persone ci stanno chiedendo quando saranno disponibili, il programma e quant'altro. Oggi finalmente abbiamo esposto un po' tutto quanto, già sui social troveranno tutte le informazioni relativamente al programma, ma soprattutto dove potranno acquistare i biglietti. Quest'anno con la nuova novità che abbiamo messo per quanto riguarda tutte le persone che hanno problemi con il glutine, che possono comunque partecipare, avranno delle postazioni adatte dove non c'è contaminazione per poter partecipare all'evento e finalmente fare in Giro per Fan anche con i propri amici. Quindi quest'anno abbiamo alzato un pochettino la sticella, siamo convinti di aver fatto una cosa sicuramente molto buona, sono convinto anche che ci sarà veramente tantissima gente come tutti gli anni, quindi non mi rimane altro che aspettarvi a giovedì. Mi raccomando venite numerosi e tutti coloro che non troveranno il biglietto mi auguro che verranno comunque in piazza o comunque in centro, perché al di là del fatto dei punti di ristoro, comunque tutta la parte culturale sarà a disposizione di tutti, quindi Fan è bella anche per quella, quindi mi auguro che saranno qui presenti tutti quanti perché vedere la città piena di gente, un giovedì che di solito è il giorno un pochettino un po' più scarico, è sicuramente una cosa molto bella e dà tanta soddisfazione. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!